E sono partiti, è in testa Perrero, è in testa Perrero Perlegnano, secondo Cervia, terzo si staccano i primi due, sempre in testa Perrero Perlegnano, secondo Cervia, alla seconda ruba si allarga Perrero Perlegnano e sentì la Cervia, per Niccolò Chiara prende la testa, va in testa Cervia, secondo Legnano, gli altri sono distanti, sempre avanti e in testa facile, ora Niccolò Chiara per Cervia, secondo Legnano, sempre a fine del secondo giro, sempre in testa Cervia con Niccolò Chiara che sta galoppando molto bene, è preciso il cavallo, ancora in testa e va a finire il terzo giro, Ora sempre Cervia con Niccolò Chiara, secondo ancora Perrero, Perlegnano, gli altri sono noterissimi, prende vantaggio ancora Cervia, ormai non lo prendono più, e va, viene ancora a finire il quarto giro, Cervia con Niccolò Chiara, Cervia con Niccolò Chiara, secondo Legnano, Ferrerro, gli altri sono mai lontani, ma questo non lo prendono più, e va senza nessun tipo di problema, Cervia con Niccolò Chiara con Niccolò Chiara, secondo Legnano, Ferrerro, gli altri sono lontani, ma com'è questo non ha più nessun problema, precisissimo, questa cavalla, questa Cassandra d'Accoglia, che va, che va a vincere senza, se e senza, ma, stava bravissimo a infilare, anche Ferrerro è stato bravo, veniva a partire in testa, troppo non c'è stato nulla da fare, arrivato a un certo punto, è infilato via, e non gli ha lasciato più possibilità di rumpere, questa cavalla d'Accoglia è veramente molto precisa, ha messo i piedi sempre nello stesso posto, vedete la felicità di Niccolò Chiara, che si accadezza questa Cassandra, che è un po' di noiosa alla partenza, però, è veramente precisa, 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 come pochi, complimenti, quindi, a Nuova, a Serbia, a Nuova Primavera a Serbia, che vince dopo 12 anni, e a Niccolò Chiara, a questa Cassandra, è andata veramente molto, molto bene. La gente, Niccolò Chiara, che sta andando al punto dove considerano il grappo, che si viene complimentato, mettiamo delle immagini, un abbraccio con Ferrero, che è un amici, ha vinto migliore, soprattutto ha vinto, stavo bravo Niccolò Chiara, ma è stata veramente, 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 molto, molto brava questa Cassandra a Coglia, precisissima. Adesso, vedete, va a girare insieme al capitano, che vedete lì accanto al Dappo.